Grazie per questa occasione per parlare insieme di un tema che è molto importante, di cui poi nella introduzione di Vito Verrastro c'è un dato che va rimarcato con orgoglio, non tanto il fatto personale, nel comitato di indirizzo nazionale ci sono due lucani su dieci e la Basilicata è stata una delle primissime regioni a far partire una task force dedicata al digitale e che oggi nel nostro paese e in Italia i temi che sono legati al digitale vedono comunque la Basilicata presente su tutti i tavoli cercando di sfruttare a fondo tutte le opportunità. Con tutte le difficoltà di questo contesto, con tutte le difficoltà di questo periodo. Io però vorrei iniziare questo intervento molto breve, ricollegandomi un po' all'introduzione del Presidente Lamorte e fare una domanda agli imprenditori che sono qui presenti in sala. Chi degli imprenditori qui presenti in sala ha un milione da investire per cercare nuove vie di sviluppo della propria azienda? Nessuno di voi ha un milione? Che peccato. E 100.000 euro? E 100 euro? Quanti imprenditori non hanno 100 euro da investire? Chi è quell'imprenditore che non investirebbe 100 euro per provare qualcosa di buono, che magari funziona per la propria azienda? Ecco, perché ha senso oggi il digitale? Perché la soglia minima di investimento per avere un risultato, per provare a essere nel gioco, la fish, non è un milione di euro. E non è 100.000 euro. È 100. È 100. Allora, regioni come la Basilicata, piccole nella dimensione della nostra popolazione, piccole nella dimensione territoriale, piccole nella dimensione economica, piccole anche nella dimensione di quelle che possono essere le possibilità delle imprese. In realtà, oggi hanno molte più possibilità che noi ieri. Questa è la cosa che dobbiamo avere in testa. Il digitale, un altro messaggio, che però è molto più importante anche del primo, il digitale non è un pezzo che si aggiunge. Cioè noi avevamo prima il settore elettrico, il settore meccanico, l'agricoltura e l'IT. No. È un pezzo che sta sotto. Trasforma l'agricoltura, trasforma il modo in cui facciamo il vino e lo vendiamo, facciamo l'olio e lo vendiamo. Trasforma tutto, ma sotto, è trasversale. Non è importante perché in sé è fonte di occupazione. Sì, lo è anche. Ma perché trasforma tutto quello che c'è sotto. Allora, con numeri accademici, si dice, vabbè, oggi il PIL non cresce. Il PIL, il prodotto interno lordo, è un argomento molto importante per capire come vanno le cose. Allora, questo è un insieme di ricerche che ho messo insieme, fonti le più diverse, dall'OECD fino alla Banca Mondiale, eccetera, eccetera, che dicono, va bene, ma quando arriva il broadband, quando arriva internet ad alta velocità, che succede all'economia? Qualcuno dice che cresce l'1,4%, qualcuno dice che cresce lo 0,2%, non c'è nessuno che dice che non cresce. Quindi, si punta sul digitale, qualcosa deve per forza tornare, tanto, poco, ma qualcosa ritorna. Allora, che cosa ritorna? Se noi lo vediamo a livello di paese, raddoppiare solo la velocità del broadband porta, in termini di crescita, in più un aumento di PIL dello 0,3%. Qui c'è il progetto regionale dell'ultra broadband, il bando si chiude alla fine di ottobre, ed è il primo pezzo di un progetto più ampio che porterà nell'arco del 2016, si spera di riuscire a chiudere entro il 2016, il 96% della popolazione lucana ad avere l'ultra broadband. Il 96% della popolazione lucana non significa che noi siamo ai vertici, quindi 2016, ai vertici nazionali, noi si indica che siamo al 2016, ai vertici mondiali. Quindi, come dire, siccome l'ultra broadband, cioè avere la connettività e la premessa per far parte del gioco, come dire, siamo tutti invitati e l'abbonamento è facile da avere, al tavolo da gioco dove si fa le scommesse per il digitale. E la Basilicata ha più di tutte le altre regioni. Poi l'altro tema, che cosa succede a livello di singola famiglia? Allora, se vi fate l'abbonamento al broadband, questo dicono le statistiche, e anche l'esperienza diretta, in realtà è come se guadagnasse dei soldi, perché li risparmiate. Per gli Stati Uniti, all'incirca, se passate da 4 a 8 megabit di velocità, risparmiate 120 dollari. E l'incremento maggiore è 2100 dollari all'anno per famiglia, quando passate da non averla ad avere anche una minima connettività. Ma in soldoni, come accade questo? Ma accade in mille cose. Accade in mille cose. Perché all'improvvisamente i vostri figli riescono ad avere accesso a informazioni migliori, a costo più basso, perché tutto quello che è digitale costa meno, perché riuscite ad avere accesso a opportunità che vi permettono di risparmiare. Perché oggi la concentrazione massima di informazioni che vi permettono di risparmiare i soldi e di migliorare quelle che sono le vostre possibilità economiche sono tutte su internet. La migliore, più facile concentrazione di informazioni il cui accesso è quasi sempre gratuito. Perché è importante? Perché questo crea una grande opportunità. Io vi ho messo su questo grafico, guardate questa linea qua, è l'andamento del commercio mondiale. Si vede un po' poco, no? Però notate, questo è il 2000, l'anno in cui inizia internet. Vera, quella della new economy. Questo è il 1980. Da qua a qua, il commercio mondiale triplica. Il commercio mondiale è triplicato in dieci anni. Ora, ditemi un'altra fase della storia dell'economia mondiale in cui il commercio mondiale è stato moltiplicato per tre in dieci anni. non c'è. E' un caso che comincia nel 2000? Non è un caso. Non è un caso. Per cui, a mio avviso, non è lungimirante di più l'idea della Camera di Commercio di aderire a un progetto come questo. E' eccellenza digitale. non vuol dire essere belli nel mondo digitale, ma essere tra i primi e cercare di giocarsi seriamente la propria carta in questo mondo che si sta digitalizzando. Quando Diego Ciulli parlava della coda lunga, un modo complicato per dire, ragazzi, siamo sei miliardi di persone in questo mondo. Il tema è dobbiamo vendere a questi qui. Quello che vuole un prodotto specifico, molto particolare, che magari c'è il fagiolo di sarconi, piuttosto che l'olio, piuttosto che l'aglianico, piuttosto che qualsiasi altra eccellenza che viene prodotta in Basilicata, è lontano quando? Prima era lontanissimo perché andare a vendere in Cina, a Pechino, a Shanghai, è molto lunga, sono un sacco d'ore d'aereo e costa tanto. Oggi è un click lontano. Sono stato chiamato un po' di tempo fa, da Corriere della Sera, a fare parte della giuria per quanto riguarda i premi e le eccellenze sul web degli italiani e scrivendo l'articolo per commentare questa cosa qua, a me una sola cosa mi è venuta in mente. Un tempo, e il Presidente sicuramente se lo ricorda, erano gli imprenditori che, come anche oggi, ancora lo fanno, perché è ancora un canale importante, giusto, no? Prendevano la valigetta e andavano alle fiere ben vestiti, no? Vi immaginate che possibilità di successo avrebbe avuto un imprenditore con la cravatta macchiata, il vestito sbrindellato e, come dire, malstirato. Chi imprenditore mai sarebbe andato a una fiera così? Beh, oggi nessuno chiede più all'imprenditore di andare in giro. Però l'imprenditore è sbrindellato con il vestito spiegazzato, è un imprenditore che non fa parte del gioco tecnologico. Perché oggi le aziende che vogliono le forniture vi chiedono, va bene, ma questi sono i miei standard tecnologici, danno per scontato, vi dichiarano all'inizio in che modo vogliono avere a che fare con voi, perché loro hanno i loro sistemi di procurement, hanno i loro sistemi, o mi dai i formati digitali oppure è inutile che stiamo a parlare. Sono forme di analfabetismo e di esclusione o di cattiva educazione imprenditoriale perché non ci si va mai da un cliente con la cravatta macchiata e il vestito spiegazzato. Oggi tutto questo vuol dire il digitale. Perché la prima cosa che farà un imprenditore che deve comparare da un'altra azienda o comunque un consumatore è valutare ma questo qua, vediamo sul sito, che cosa offre. E il primo giudizio lo darà sul fatto se il sito si presenta bene oppure è sbrindellato. Ora, il 60% della popolazione è online. Il 60% della popolazione ha un click di distanza. Ma quando mai nella storia dell'umanità il mondo è stato così piccolo? Così vicino, un pezzo con l'altro. E il mobile, che oggi sta andando ancora più velocemente di tutte quelle che sono state le tecnologie che ci hanno preceduto, sta portando quell'altro 40% che rimane di popolazione mondiale ancora più vicino. Provate ad andare in Africa. Sapete qual è il paese più evoluto al mondo per i pagamenti sul cellulare? Il Kenya. Perché questi paesi poveri prendono e vanno sull'ultimo pezzo dell'innovazione digitale? Semplicemente perché costa meno e funziona. Questo è l'andamento del prezzo degli smartphone. Uno smartphone è molto più potente in termini di elaborazione di quelli che erano i super computer che hanno mandato sulla Luna gli uomini. Molto più potente. E questo è l'andamento di questa era una statistica di poco, diciamo, questa è del 2013 e la statistica che diceva l'andamento globale del prezzo medio di acquisto di uno smartphone. Adesso facciamo una... Chi è che ha uno smartphone qua in aula? Qui nella sala? Anche il senatore? Ecco. Ecco. Allora, io ho presentato questa statistica in un consenso dove c'erano i dirigenti di un'importante società di telecomunicazione. Mi hanno detto no, guarda, questa statistica è sbagliata. Perché già oggi, che è il 2014, noi abbiamo un prodotto che è uno smartphone che vendiamo a 39 euro. Chi non ha 39 euro da spendere per avere uno smartphone che fa parte della frontiera digitale? La statistica è davvero sbagliata, ma di tanto. No? Non 250 dollari, 39 euro. Quindi significa che in realtà ormai in questo mondo non c'è solo chi non vuole esserci. il tema è che col digitale non è che cambia tutto quello che cambia nel PIL perché poi, come dice la scienza triste e quella dell'economia mi occupo di questo purtroppo. Non è tutto. Tutto ciò che cambia in realtà che invece è molto importante per gli imprenditori e per questo la lungiminanza della camera di commercio non è nel PIL e in altri fenomeni. Per esempio la free economy. Se voi andate su Google e fate una ricerca quanto vi costa? Zero. Se vi aprite una posta su Gmail quanto vi costa? Zero. Allora tutte queste altre applicazioni non me ne vogliano sono gratis non vi costano nulla. E tutte queste applicazioni vi danno come dire gratis quello che prima voi potevate ricevere pagando perché Whatsapp alla fine cosa sostituisce? gli SMS non fate più un SMS usate Whatsapp oppure per parlare cacao oppure non so Snapchat per le immagini o Viber ok? E questo crea un cosiddetto consumer surplus siete collegati a internet avete pagato l'abbonamento vi siete comprati il cellulare o il computer o il tablet bene cosa succede? Che tutto quello che ricevete gratis crea dei seri problemi di calcolo perché sai non è facile allora Enrique Brin-Jobson che è il maggiore esperto al mondo di temi di produttività e internet ha fatto un calcolo molto interessante insieme a Joey all'incirca ogni utente che è collegato a internet riceve gratuitamente 2600 dollari all'anno in prodotti free perché solo per il fatto che ha internet non spende più cose per cui spendeva le telefonate voi potete sostituire le telefonate con Skype e allora tra l'altro io ho dei bambini molto piccoli e mica al telefono possono farli vedere ai nonni con Skype invece è possibile quanto mi costa? è gratis i nonni sono contentissimi anzi i bimbi me lo chiedono e sono molto delusi quando vi facciano sentire al telefono ma è gratis fate la somma di tutte queste cose qua per alcuni di voi farà più di 2600 euro perché se qualcuno di voi compra le aste online oppure va a fare le vacanze online oppure ha una casa di vacanze al mare la vuol mettere a reddito quella cifra non è più 2600 euro è molto di più l'altro tema è che su internet il problema dell'assortimento non c'è più quanti di voi hanno un chilometro quadrato di magazzino ma chi se lo può permettere un chilometro quadrato di magazzino no? allora l'assortimento in termini di libro del più grosso negozio che voi potrete trovare al mondo di libri è 250.000 titoli libri su Bannus & Noble se andate su Amazon avete più di 10 milioni di libri no? è solo che c'è una differenza Amazon non li tiene tutti nel suo magazzino e Amazon come tutti quelli che possono andare su online incassa i soldi prima di fare la spedizione che è una certa garanzia per non essere fregati quanti di voi possono permettersi di fare una cosa del genere molto spesso nelle fornitori? quasi nessuno e vuol dire solo per il fatto di poter aumentare l'assortimento lo 0,4% di crescita il PIL in più che non è segnato nel PIL ma che sono soldi che invece l'imprenditore si sente nella tasca e il consumatore apprezza e poi ci sono una serie di cose che non sono tangibili ma che sono altrettanto importanti e che cambiano le relazioni allora per esempio prima ieri una bottiglia di vino un aglianico allora c'è un'applicazione che si chiama Vivino qualcuno di voi la conosce? allora Vivino è una bellissima applicazione che vi permette di fare una foto all'etichetta della bottiglia e poi vi da tutte le informazioni cosa vuol dire tutte le informazioni? non cose strane il codice a barre il tag l'RFD no la foto dell'etichetta riconosce l'etichetta e vi da tutte le informazioni vi dice quelli che hanno bevuto quello stesso vino non la cantina il vino mi ha detto infatti ma questa bottiglia normalmente il prezzo che dovresti pagare è 16 euro dove la vuoi comprare? tre posti dove comprarla gli altri che hanno guardato questo vino che voto gli hanno dato? questa cantina dove è posizionata? nella fascia alta nella fascia media nella fascia bassa e a livello mondiale questo tipo di vino dov'è? nella fascia alta nella fascia bassa o nella fascia media? con che abbinamenti bisogna fare? ce l'avevo lì gratis su Vivino molto semplice il tempo di una fotografia e tutto questo ha un enorme valore ma è anche un valore perché serve a cambiare il modo in cui si fanno le cose noi abbiamo qua un live tweet cosa vuol dire il live tweet? significa che noi non siamo quelli che siamo in questa sala siamo molto di più perché quelli che sono lontani che fanno comunque del live tweet oppure che ci vedono in streaming questi partecipano come se fossero qua e oggi la televisione è diversa semplicemente perché è stata trasformata dal live tweet ma cosa vuol dire per le aziende? vuol dire che anche un'azienda piccola che fa delle cose buone in realtà con il passaggio di parola in parola di un'opinione che muove un'altra opinione che muove un'altra opinione nei redditi sociali può avere un successo enorme in poco tempo e con uno sforzo molto limitato allora Brian Arthur che è uno dei padri insomma del pensiero digitale nel 2012 ha scritto un libro molto interessante che è The Second Economy dove diceva una cosa molto semplice questo allora il tema è che non è un pezzo di economia che si sta sommando ma è l'economia che si sta trasformando e non si sta trasformando l'economia perché c'è un pezzo nuovo di economia che è tutto intangibile ma è il vecchio mondo cioè tutto quello che noi conosciamo l'esperienza di quello che noi conosciamo che si sta trasformando domani mattina grazie ai potenti mezzi della Camera di Commercio parto molto presto e ho un volo alle 8 da Napoli ma io per prendere il volo di domani non ho avuto a che fare con nessuno allora tempo fa avrei dovuto fare una capatina prima o poi in un'agenzia viaggi prendermi fisicamente il biglietto pagarlo fisicamente mettermelo in tasca fisicamente poi arrivare al check-in domani mattina fisicamente quindi arrivare con un grongoro anticipo ancora di più eccetera eccetera no non tutto questo io l'ho fatto in 5 minuti non ho nessun pezzo di carta e domani mattina quando andrò a prendere l'aereo userò solo il cellulare non mi stamperanno nulla vado direttamente ai controlli di sicurezza perché all'Italia mi permette di saltare tutto quanto cos'è tutto questo passaggio allora qui parliamo di settore agroalimentare nel 1900 l'anno 1900 l'agroalimentare l'agroalimentare valeva il 30% dell'occupazione oggi è sotto il 2% ok è stata una grande dopooperazione sì no è stato un cambiamento se noi lo guardiamo oggi pensando a ieri bene o male aveva senso resistere al cambiamento allora il Brasile dove i nostri nonni emigravano nel 1900 fece la scelta che per loro era più naturale perché erano ricchi di terra di agricoltura lì per questo andavano i nostri nonni emigravano c'era terra era facile coltivarla ok siccome era un'economia agricola molto ricca il Brasile ha continuato a essere un'economia molto agricola no e ha attraversato una fase di trasformazione no soltanto molto recentemente e una lunga fase di povertà l'Italia dove invece non si riusciva a fare l'agricoltura in modo serio perché purtroppo aveva una struttura sociale anche della proprietà agraria molto difficile molto diversa dopo la guerra non siamo riusciti a riconvertirci sufficientemente in realtà è stata una buona notizia perché l'industria è cresciuta noi siamo stati il terzo esportatore mondiale la sesta potenza economica del mondo grazie alla fase di sviluppo dell'economia che abbiamo avuto dopo la guerra siamo diventati in pochi anni non potendo essere diventare una potenza agricola una potenza industriale e siamo oggi il quarto produttore europeo pardon siamo il secondo produttore europeo e il quarto mondiale di manufatti perché noi poi siamo abituati a maltrattarci a pensare male di noi stessi del nostro paese ma tutto questo è stato il fatto che abbiamo preso una strada di sviluppo e non un'altra vado un po' più veloce il tema è che noi siamo in un mondo in rapidissimo cambiamento internet non è solo internet delle persone collegate alle persone fra poco tutti gli oggetti saranno collegati a internet tantissimi oggetti il tapirulan il vostro bracciale la bilancia tante altre cose si pensa che la previsione entro il 2018 saranno 18 miliardi gli oggetti connessi a internet tantissimi in pochissimo tempo non è niente di più rivoluzionario questi sono i numeri ma soprattutto che ci saranno molti business che saranno cosiddetti uberizzati ti hai mai sentito in televisione al telegiornale parlare della protesta dei tassisti a Uber c'è qualcosa che è più fisico e anche un po' come dire vecchio di un tassista quanto tempo ci vuole quanti soldi ci vogliono per sviluppare un'applicazione come Uber pochissimo è tutto come dire qua un pensiero minimo di implementazione pochi capitali è stato comprato Uber da Google per più di un miliardo di euro ma il business di Uber ha totalmente cambiato il mondo dei tassisti e quanti altri business possono cambiare in questo modo non dico per complicare la vita dei tassisti ma questo succederà comunque allora il tema è esserci oppure rimanere esclusi e questa è una piccola statistica che volevo vedere con voi oggi Nest che fa dei piccoli oggetti per il mondo di internet e delle cose ha ricevuto 80 milioni di dollari di investimento il valore è 3 miliardi e 2 Oculus VR ne ha ricevuti 93 milioni di dollari lì la previsione è sbagliata perché dice che il valore è 250 milioni di dollari è stata appena venduta per 2 miliardi e mezzo poi vi faccio vedere un'immagine non c'è mai stata una creazione di ricchezza vera così forte in così poco tempo allora il tipo il momento adesso questo è quello di scegliere essere dentro o andare fuori questi sono i jogos VR se voi li avreste provati fareste la stessa espressione di questa persona perché vi lascia bocca aperta perché costano 300 dollari prima ancora il modello precommerciale il vero quello che andrà poi sul mercato sarà ancora più economico ed è come avere un televisore a 100 pollici in alta definizione attaccate gli occhi e che io sia in mezzo a una strada sul treno eccetera eccetera avete una realtà immersiva pazzesca e il mondo di internet assumerà come dire forme molto molto diverse quindi non un piccolo schermo triste ma come se fosse una realtà immensa dove voi potrete anche trovarvi insieme a altri social network usando altri social network per scambiare opinioni e temi dove siamo in Italia allora accesso alla banda ultralarga ultimo posto uso regolare di internet quartultimi online shopping terzultimi e-commerce per le aziende penultimi allora è un disastro no è un'opportunità è un'opportunità vi racconto una breve varzelletta di un imprenditore a proposito di export che faceva scarpe che ormai non riusciva più a vendere aumentare i suoi venditi di scarpe in Italia allora decide di prendere un venditore e mandarlo in Africa dice ma noi non abbiamo proprio a vendere in Africa mandiamo qualcuno a vendere in Africa venditore va in Africa e comincia a sondare il mercato guarda fa domande eccetera eccetera poi quando pensa di avere una sufficiente informazione scrive all'imprenditore e dice analizzato il mercato sondato le informazioni è arrivato alle conclusioni qui in Africa mercato nullo nessuno porta scarpe va bene allora dice torna che devo fare l'imprenditore con molto realismo dice torna che stai a fare là non c'è mercato passa un po' di tempo l'imprenditore dice ma io voglio provarci un'altra volta manda un'altra persona a fare un tentativo per sondare il mercato africano questo fa le sue analisi viaggia si informa eccetera eccetera si forma un'opinione alla fine scrive all'imprenditore dice analizzato il mercato valutato le possibilità qui in Africa mercato infinito nessuno porta scarpe ok non parliamo di government no perché questo è lo scenario del cambiamento per una ragione scusate se la prendo da lontana questi sono gli ultimi e l'umanità la popolazione mondiale dal 10.000 avanti Cristo al 1800 vedete non ci sono grandi cambiamenti no più o meno la popolazione del mondo rimane lì negli ultimi 250 anni che succede? la popolazione esplode ok faccio vedere una seconda statistica questa è l'indice dello sviluppo sociale stessa statistica dal 10.000 avanti Cristo fino al 1700 non ci sono grandi cambiamenti ma nel 1600 esplode noi stiamo vivendo un'anomalia se noi vediamo il telegiornale tutte le sere ci dimentichiamo che stiamo vivendo un'anomalia gli ultimi 250 anni sono così di crescita esplosiva questo significa che è più vero oggi che non ieri che la mattina quando ci alziamo dobbiamo correre perché se siamo leoni o siamo gazzelle comunque dobbiamo correre perché non importa quanto forti siamo quanto veloci siamo comunque è un mondo dove bisogna correre è un terzo concetto questi sono gli ultimi 250 anni sono stati 5 rivoluzioni 5 rivoluzioni che sono arrivate più o meno ognuna ogni 50-60 anni ogni rivoluzione è fatta di sottorivoluzioni queste sono state l'origine di quell'anomalia che noi stiamo vivendo allora il tema è c'era un libro molto bello che poi è diventato un film che era Interview with the Vampire l'intervista con il vampiro molti di voi magari l'hanno visto il cast era eccezionale Brad Pitt il libro era bellissimo e aveva dei particolari che non ci sono nel film il particolare più interessante era perché moriva un vampiro perché a un certo punto un vampiro che poteva essere potenzialmente come dire eterno si stancava c'era una specie di malattia del vivere e questa malattia del vivere come veniva perché non si riconosceva più nello spirito del tempo che viveva poteva vivere all'infinito ma moriva quando non riusciva più a sentirsi collegato con il tempo che viveva oggi il tempo è il tempo del digitale chi non riesce a pensare a risentirsi a ripensarsi a ricollocarsi in questo tema sostanzialmente è destinato a come dire marmano marginalizzarsi ma non è colpa della competizione in realtà siamo noi stessi oggi chi per mettere una lampadina chiamerebbe un ingegnere elettronico nessuno non serve così come non serve per mettere l'impianto elettrico basta un elettricista per attaccare una lampadina basta avvitare ma internet sta diventando esattamente così io devo sapere cosa voglio come voglio la lampadina con l'attacco grosso o con l'attacco piccolo mi basta sapere questo e la compro dovete essere informatici per essere nel mondo digitale la risposta semplice è no allora le eccellenze in digitale chi sono informatici che no Katia Giovanna sono informatici come dire lasciati in libertà all'interno delle aziende lucane no sono persone che si sono applicate che hanno capito quello che si può fare e questo è abbastanza grazie 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 grazie